Siamo con il Presidente della Casa di Cura Rizzola di San Donato di Piava e Francesco Variola. Oggi fate una conferenza stampa dove fate un accordo con la Confapi Venezia per le cure sia dei dipendenti ma anche dei familiari di dipendenti. Ecco, una casa di cura privata ma convenzionata aiuta di fatto ed è un aiuto importante alla struttura pubblica. Ecco, questi accordi cosa rappresentano per una casa di cura privata? Per noi è un grande motivo di orgoglio e siamo veramente molto contenti di questo accordo perché noi facciamo parte di un territorio, la città metropolitana di Venezia, dove sicuramente possiamo svolgere un ruolo e avere una partnership con questa associazione per noi sicuramente è un motivo di crescita e un'opportunità per dare un maggior servizio alla popolazione. La Casa di Cura ha istituito un reparto Covid di 50 letti messi a disposizione del nostro USL. Questa struttura è stata completamente blindata dal resto della struttura anche nella parte del ricambio dell'aria, per cui in totale sicurezza. Abbiamo già avuto diversi pazienti Covid, la maggior parte dei quali non estremamente gravi, ma una parte di una certa consistenza di malattia. Speriamo che si torni alla normalità, però in questo momento è impegnativo questo periodo. Sì, questo periodo è molto impegnativo. Il reparto Covid è sicuramente una cosa che non è facile da gestire, però ad oggi siamo riusciti a poterlo gestire in sicurezza. Quindi direi che questa è stata un'esperienza difficile, ma un'esperienza anche di crescita. È un'esperienza che ci ha messo molto in relazione con la sanità pubblica, che ci riconosce a tutti gli effetti come appartenenti alla rete Covid del Veneto.